Penso come in tutte le coppie, insomma, se due persone si amano, diciamo che è una condizione fondamentale, non necessaria che uno assecondi le scelte professionali dell'altro e le sostenga, per cui per la felicità della coppia proprio, non solo dell'altra persona ma della coppia in sé, perché se una persona è felice ed è soddisfatta e gratificata nel lavoro, lo è anche poi nella vita privata, per cui come io per esempio nel mio caso specifico, il mio compagno vive a Milano, per l'altro io a Roma, per cui il compromesso è quello di vederci solo a Bologna, a volte o insomma tre volte a settimana, che tra l'altro vi consiglio in modo, un metodo perfetto per una lunga durata di un rapporto. Sì, sì, perché è come mettere la macchina in garage, cioè consumi meno e quindi fa più chilometri, fa più chilometri, fa più chilometri. Sì, sì, sì. E quindi questo, insomma, è successo. Finanzatevi con gente lontana, questo è un po' il... Il zucco.